allora ragazzi siamo qui con l'altro degli specaging questo qui però fatto da casa nostra perché hey non abbiamo avuto il tempo di farlo in fiera ma 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 l'argomento di oggi è raven distribution allora dalla raven distribution cosa abbiamo ottenuto tre manuali due comprati o meglio uno comprato e due regalati uno regalato dal curte che è stato gentilissimo e anche roberto petrillo della raven ovviamente che è il capoccia che ci hanno regalato anime sangue eden e che dire abbiamo la stessa struttura classica che abbiamo trovato negli altri anime sangue quindi immagini a pagina piena testo su tre colonne curte 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 continui a sbagliare insomma immaginazione molto semplice da alcuni punti di vista si potrebbe dire quasi veramente troppo semplice ma in realtà va molto a gusti le immagini sono spettacolari non vado a dire veramente figo si aggiungono tutta una serie di magie veramente che non vedo l'ora di vedere abbiamo come grafica sul manuale esterno questa la ruota praticamente del dei sentieri se potremmo così chiamarli tutto che si va incastorare nel nel centrale del dell'illustrazione qui abbiamo una specie di terminator che esce fuori una roba del genere sì più o meno sì siamo un terminator insomma abbiamo diversi elementi diversi personaggi e sarà sicuramente interessante ma questo è il meno di quello diciamo che quello minore da mostrarvi perché non è che ci sono molti elementi da spacchettare passiamo un altro brevemente john doe che hanno regalato alla regia quando andato a comprare il gioco di ruolo di un gruppo solitario e john doe basato sull'omonimo fumetto di roberto ricchioni lorenzo bartoli quindi comunque due autori me coglioni del panorama italiano anche se mi sembra che lorenzo bartoli sia morto non mi ricordo quanto però abbastanza recentemente e è per questo che comunque il gioco di ruolo è stato interrotto perché il fumetto è stato interrotto il fumetto il fumetto il gioco di ruolo leggendo la prefazione che viene fatta qui mi ricorda per alcuni aspetti american gods di neil gaiman e insomma con divinità che entrano in mezzo i cavalieri dell'apocalisse insomma un sacco di robe tutte le leggende tutte le mitologie che praticamente entrano in gioco e quindi potrebbe essere interessante la grafica all'interno è abbastanza bianco e nero abbastanza semplificata semplice nel senso niente di particolarmente che salti all'occhio però potrebbe essere funzionale a quello che fa non ne sappiamo molto quindi ovviamente questo sarà completamente da scoprire ma 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 passiamo al terzo e ultimo che verrà spacchettato dalla regia visto che l'ha comprata a noi e si tratta della copia di lupo solitario il gioco di ruolo firmato da chi? dal Joe Dever dal Joe Dever ospite uno degli ospiti più apprezzati a luca di comics and games quest'anno visto che comunque l'hanno celebrato con anche un premio alla carriera e questo è il gioco di ruolo prodotto dalla raven che hanno portato quindi apriamolo spostiamolo un attimo da qui così non abbiamo troppa luce ok beh quello sembra manuale cosa cosa buona e giusta il manuale il manuale non è cartonato è brossurato e questo qua che cos'è il manuale il gioco di ruolo libro il libro delle leggende di Kai che cos'è il libro delle leggende di Kai visto che tu ne sai molto di più allora in realtà ha colori dentro ci teniamo a precisare leggende del Kai in realtà da quello che mi sembra al volo sembra un avventuro comunque una serie di avventure di storie di spunti per l'avventura quello che posso dire che è particolare è che in copertina sono stati scelti comunque di essere messi questi tre soggetti che posso ipotizzare siano cavalieri ramas che va bene l'avventura del lupo solitario tu eri l'ultimo di cavalieri ramas prima di rifondere il tuo non credo che qui sia la stessa cosa perché sennò no in effetti vorrei capire se il gioco è ambientato primo o dopo la rifondazione in effetti sarà da capire anche perché comunque è particolare perché tutti questi tre personaggi hanno il mantello verde che era un segno distintivo del lupo solitario quindi potrebbe essere anche una sorta di simbolo tramandato questo è quello che mi ricordavo quindi probabilmente leggendo meglio scopriremo effettivamente se è un libro di avventura o meno però in effetti leggendo qui Scena 2 Partenza del Monastero in realtà però ci dia da quella sì sembra essere un libro di avventure con anche delle basi vediamo i disegni i disegni comunque sono di ottima fattura ragazzi buona qualità l'impaginato è interessante alterna questo box sotto con anche l'intestazione molto figa ragazzi guardate comunque la cornice sopra la mappa è proprio quella vecchio stile dei libri è mica veramente vecchio stile ragazzi cioè un po' bruttina rispetto al resto ma è stata una scelta perché anche nei libri proprio nei libri game di nuova edizione che avevo visto hanno rifatto tutta la copertina strafiga ma la grafica interna è rimasta esattamente quella vecchia quindi o abbiamo finito i soldi o è una scelta proprio grafica del prodotto sì è una scelta di cuore per la scelta allora invece questo qua libro dell'addestramento Kai quindi quello è il libro dell'avventura altro manualino brossurato questo immagino che siano sì occhio qui vedo più tabelle più regole quindi potrebbe essere dell'ambientazione no del sistema di regole questo cos'è un cavaliera quindi ambientazione e sistema di regole un esempio di gioco sì 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 beh in effetti se è una per l'avventura c'è comunque una parte appunto dell'addestramento di come creare un personaggio che in realtà da qui per esempio rivedo già le discipline Kai sono quelle che c'erano nei libri cioè a occhio proprio ricorda hanno voluto ripercorrere molto sì ricorda molto il percorso il percorso di creazione che c'era nei libri game in maniera forse un po' più approfondita ma sono continuamente alternati questi manolini uno da un lato e uno dall'altro va bene va bene guardiamo il libro della saggezza Kai quindi ragazzi tre manuali in uno tutti e tre brossolati tutti e tre da un'ottantina novantina pagine più o meno come funziona i combattimenti questo invece allora uno sembra le informazioni sull'avventura sull'ambientazione esatto l'altro era per creare il personaggio questo sembra avere tutte le regole del mondo le cariche del gioco esatto quindi in realtà è come avere i tre manuali per esempio di D&D 3.5 manuali di giocatore master e bestiario divisi ma tutti in un'unica scatola che hanno venduto a 30 euro tra l'altro e poi il bestiario peraltro tra l'altro venduto a 30 euro ragazzi ci teniamo a ricordare porca misera un prezzo che in effetti stavano andando abbastanza a ruba le scatole no no poi con l'autore dei libri game che firmava vabbè mostri abbastanza classici tipo i borsi il ver metalpa il ver metalpa probabilmente per chi ha giocato ai libri game che schifo è questa non me la ricordo probabilmente per chi ha giocato ai libri game saranno anche dei bei ritorni alle vecchie memorie ma 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 non abbiamo solo questa all'interno della scatola che cosa c'è d'altro? allora vabbè un volantino un volantino che sono tutti i libri che stanno rifacendo con le nuove copertine quindi promuove tutti i nuovi libri queste sono le nuove copertine ragazzi però ci teniamo a precisare l'interno la grafica è identica a quella vecchia quindi nel senso non rimaneteci male quando li prendete cioè sappiatelo fighissimo fuori dentro è rimasto proprio a 20 anni fa 20 anni e passa fa ok questi sono tutti i token che non ho di come funziona il gioco bella la qualità sono belli lucidi hanno anche comunque un altatto sono comunque un pochettino particolari non l'esagerato ma vorrei capire esattamente come funzionano perché meno male Lupus d'Italia è sempre stato un gioco che bastava la tabella del destino che in realtà era un di 10 tieni un attimo questo in mano bastava assolutamente hai chiamato la tabella del destino? tana non so se lo sapevi ma la Raven ha deciso di mettere la tabella del destino che appunto è una cosa molto particolare dei libri game di lupo solitario sul retro della scatola di gioco quindi c'è la plancia dove tirare il dado ah perché si fa coltivare un dado? non lo so non lo so bisogna devo anche io un attimo capire difficilmente si fa il vecchio stile perché era con la matita ogni santa volta quindi probabilmente la rovineresti infatti io l'ho passata al dado perché stavo rovinando un pochettino i libri e poi la mappa la mappa e non solo c'è altra roba dentro c'è un botto di roba allora passiamo dal primo la mappa allora questa è la mappa che abbiamo visto sopra quindi la mappa vecchio stile è double fast o no? sì è double fast è double fast allora un po' di luoghi me ne ricordo altri no per esempio questa è la zona proprio di origine del protagonista dove si sa che arriva questo è il regno alleato questo questo era proprio il percorso che facevamo nel libri game che avevamo noi due te lo ricordi? mh e mentre l'altra parte della mappa l'altra parte è un ingrandimento perché qui è la zona di potenza di lupo solitario questo è il deserto che si vedeva lì e quindi in realtà è solo un ingrandimento ok la qualità è un po' leggerina la carta ragazzi ci teniamo a precisare è un po' leggerina però è buona comunque la qualità della carta patinato lucido vorrei vedere anche se ci sono altre mappe perché bene o male ci sono molti luoghi visitati magari verranno aggiunti prossimamente buh cosa abbiamo qua? che sembra essere una scheda riassuntiva con il ottimo la buon vecchia tabella che era del rapporto di forza che era la base dei combattimenti quindi abbiamo come svolge il combattimento base un riassunto che sembra l'elenco dell'equipaggiamento disegnato esatto ha molto fa veramente tanto il sapore dei vecchi libri game ma è veramente è stata proprio una scelta più vedo le cose perché anche lì partì proprio l'avventura che sceglievi un paio di cose ci sono sempre le corone gli zaini che probabilmente se mi ricordo porteranno otto oggetti il resto dell'equipaggiamento quindi ragazzi è proprio per chi ha giocato i libri game sicuramente si ritroverà parecchio ultime cose tanto prendevi sempre la spada che puoi avere la spada del sole già ultime cose ragazzi che cosa sono credo che sia occhio questo è un ripilogo su un po' tutto quindi abbiamo i manuali e dei piccoli ripiloghi da poter dare magari ai giocatori in giro si preparati alla più grande avventura della tua vita comincia da qui delle parti sintetizzate e cosa abbiamo questi credo che siano schede orco giuda quante sono schede di png scudo lucente chi è scudo lucente chi è assumere il ruolo potente guerriero kai ma l'altro questi no non sono png sono personaggi proprio che puoi andare sono esempi di personaggi quindi volpe notturna tuono dell'alba lama lunare canto sincero passero tempestoso quindi delle schede prefatte base ricordiamo che per chi non lo sapesse i nomi dei cavalieri ramas cioè i cavalieri kai sono dati da delle loro qualità personali la cosa particolare è che lupo solitario non era lupo solitario si rinomina così dopo che è stato distrutto il monastero lui all'inizio è chiamato lupo silenzioso quindi ragazzi queste invece sono delle schede da poter compilare in modo da poter fare i vostri personaggi sono una bella texture e anche una qualità della carta è parecchio buona parecchio buona sarebbe interessato per capire devi vedere se in un altro cioè questa sarebbe da tenere proprio una da parte per poi fare eventuali fotocopie quindi abbiamo la marea una marea di schede schede prefatte abbiamo doppia tabella appunto quella che abbiamo fatto vedere prima abbiamo trovato i riassunti le schede equipaggiamento la mappa i token e vabbè il volantino chi se ne frega e abbiamo anche i tre manualetti ragazzi direi che è un botto di roba può essere un pochettino dispersivo però c'è veramente un botto di roba e ricordiamo ragazzi tutta questa roba 30 euro era 30 euro look ragazzi con la possibilità di farselo firmare direttamente anche dall'autore dei libri game insomma io ho aspettato 5 minuti infine nulla di più quindi ragazzi devo dire che questo prodotto sembra parecchio interessante nel senso sicuramente il rapporto qualità prezzo è forse il migliore che abbiamo visto finora difficilmente troveremo qualcosa che lo batte ma era anche chiaramente intenzione della raven appunto stupire il proprio pubblico con un prodotto chiaramente di qualità a un prezzo non abbordabile ma proprio un prezzo estremamente concorrenziale ragazzi parliamo comunque di un manuale che si è diviso in tre però si parlano di 200 pagine almeno almeno uno che dice qua il libro di Agenda Kai contiene due avventure complete per il gioco la prima avventura introduttiva disegnata apposta per insegnarvi le regole la seconda aggiunge altre opzioni narrative e regole più avanzate quindi che cosa aggiungere a questo unboxing a parte che se lo sta slinguazzando la nostra cara regia direi che è stato interessante sicuramente abbiamo visto dei prodotti molto interessanti come appunto quelli di Lupo Solitario il manuale di John Do e Anime Sangue Eden che non vediamo l'ora di spilucchiare e capirlo un po' di più John Do è un gigantesco punto di domanda ma basato sul fumetto di Recchione insomma garantisce un minimo di qualità quindi ragazzi noi ci salutiamo questo è stato l'unboxing per quanto riguarda i prodotti Raven con Lupo Solitario John Do e Anime Sangue Eden noi ci vediamo al prossimo unboxing che sarà su Alba di Cthulhu e Eden e sì ragazzi Eden e Sine Reque il paese di Malocchi ciao a tutti ragazzi se ti interessa vedere sempre più video prodotti fumetti di The Evil Company e Dice Games Italia beh non ti resta che diventare Patreon così tutto questo diventerà possibile che aspetti a link a link di 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 Grazie a tutti.